Un altro importante tassello sta per essere aggiunto nella vasta opera di consolidamento del territorio di Sant'Angelo di Brolo, flagellato dai fenomeni di dissesto idrogeologico nel 2010. Sono stati infatti consegnati all'impresa Diva di Galtanisetta i lavori relativi alla realizzazione delle opere di consolidamento e convogliamento delle acque nelle vie Pantano e Vallonello. L'intervento, inserito nell'accordo di programma quadro stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, si aggiunge dunque a quelli ormai prossimi all'ultimazione che hanno interessato Contrada Barba e quelli giunti al 70% circa di avanzamento in località Cartelli. Saranno realizzate delle paratie sotto le case popolari, una zona molto vulnerabile, quindi mettiamo in sicurezza quell'area del territorio. Poi sarà costruito un canalone a monte che convoglierà tutte le acque meteoriche nella zona alta del paese che eviteranno di riversarsi nel centro urbano laddove arregavano pregiudizio forte per la stabilità del territorio. L'impresa Nissena, giudicataria dei lavori per un importo a base d'asta di 1.327.000 euro, ha vinto l'appalto con il ribasso del 31%. Inizieremo sicuramente subito con la consegna di oggi a fare la condotta, perché andiamo a brutto tempo davanti alla stagione invernale, quindi faremo sulla circolazione la condotta per convogliare le acque, reggimentare le acque e quindi a primavera iniziamo subito la paratia a valle del piazzale sotto le case popolari. Grazie a tutti.